Bene, far entrare il pubblico ovviamente nei musei, magari anche per danzare, che ne pensa della questione madre? Io come ho sempre detto sono favorevole a che i musei che sono occasioni, spazi disponibili, possano fare più cose e non una cosa sola. Penso che faccia bene il madre a fare serate danzanti, naturalmente deve avere i permessi regola come è giusto, questo vale per tutti, e penso che facciamo bene al panno, dove abbiamo scelto un profilo forse un po' più dotto, più colto, facciamo bene a proporre invece una musica un po' più selezionata. Abbiamo fatto con la musica classica, continueremo a farlo, lo faremo con il jazz, lo faremo con la musica contemporanea e piano piano anche con altre forme espressive. Voglio ricordare che qualche tempo fa abbiamo avuto una bellissima pièce teatrale con un confronto fra tre grandi nomi illustri, Tommaso D'Aquino, Edoardo De Filippo e Benedetto Croce, ecco sono anche forme di ricerca che devono continuare, linguaggi che devono fondersi con quello delle arti figurative.